Strumenti per scrittori o scorciatroie per falliti? Allora, signori scrittori, scrittrici, tutto quello che volete, qui bisogna fare un discorsetto serio. C'è un problema di fondo, e il problema di fondo siete voi e la vostra mentalità. Però c'è anche una soluzione, grazie al cielo. Perché la vostra mentalità non vi è più avuta dal cielo, mi è stata coltivata con un culto delle scorciatroie, come le chiamo io, che sarebbero le scorciatoie tenendo conto però della realtà di cosa è una scorciatoia. Una scorciatoia di solito è una cosa che ti evita il percorso vero, ma di solito succede anche che evitandoti il percorso vero ti porta a fallire. Tipo la scorciatoia di imparare, che ne so, soltanto il minimo che serve per passare un esame, e poi tu sai macchinetta come fai gli esercizi, passi l'esame, e due mesi dopo ne sai niente. È peccato che è un esame, che ne so, di medicina o di ingegneria, e ti farebbe comodo sapere queste cose passate a laurea, no? È un problema, signori, che voi vi dimentichiate quello che studiate, che cercate le cosiddette scorciatroie che portano al fallimento. In scrittura sono particolarmente evidenti queste scorciatroie, ovvero tutte le volte che vi trovate a non affrontare i principi, non affrontare gli strumenti, non cercare lo strumento per fare, per padroneggiare, ma il trucco, ok? Certo è bello avere un lavoro predigerito dove viene indicato cosa è importante e cosa no, ma deve essere un lavoro per assegnarvi strumenti utili. È come dire che il lavoro che dovete cercare, ad esempio quello che trovate nel mio doppio corso avanzato, non è tanto una serie di regolette rigide, che infatti non ci sono. È un set di strumenti. Solo che invece di, beh, beccati sta cassa gigante di 8 metri cubi di merda, fruga dentro, forse trovi degli strumenti che ti stanno... e tu stai a frugare seghetto a mano, sfonda cui automatico atomico, questa è... delle bielle, perché ci sono delle bielle qui dentro, signori? E poi dei pistoni rotti? Ah, un gognometro! E tu frughi, 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 e prima o poi trovi quello che ti serve. Ecco, questo sarebbe avere tutti gli strumenti. Un corso avanzato, il mio doppio corso avanzato, ti dà invece una cassetta che invece di 8 metri cubi di merda, è la cassetta piccolina degli attrezzi con esattamente tutto quello che ti serve. Ma poi questi strumenti devi saperli usare, ok? Non è una lista semplificata, non è una scorciatroia. Una scorciatroia può essere per scrivere un romanzo rosa, per scrivere un thriller, per scrivere un fantasy, che poi non vuol dire un cazzo fantasy, che poi non vuol dire un cazzo romanzo rosa. Bisognebbe entrare nell'ottica di cosa significa nel contesto, men che meno fantasy, perché come sapete fantasy va a toccare l'elemento del votif, non va a toccare la costruzione narrativa. Vabbè, ma sono cose che vi spiegherò in futuro. Ha voluto spiegare già l'anno scorso, ve le spiegherò in futuro. Insomma, signori, voi dovete entrare nell'ottica del dire mi serve padroneggiare lo strumento, non mi serve una lista del si fa così. Perché uno ti può anche vendere, ti può anche dare una lista del si fa così, compi il manoletto che ti insegna i 15 segreti per scrivere un grande fantasy, il videocorso del 27 segreti per scrivere un grande thriller, che cazzo ne so, ok? E ti trovi poi l'equivalente del foglio dell'IKEA. Già, peccato che magari l'IKEA ti può dare un foglio che ti spiega il perfetto a gente, come montare, che ne so, la libreria Billy, te però di fronte c'è che sta progettando una caccia torpediniera, e la libreria Billy non ti aiuta, chiaro? Ho anche una libreria diversa, non ti aiuta a montarla. Se tu non sai padroneggiare come si monta, in generale, le cose, perché non hai acquisito gli strumenti, dell'esperienza di, come leggere tanti schemini, fatti magari malissimo, tradotti da rumeni, che traducono dal cinese in inglese, fanno tutte queste cose strane. e poi ti trovi quei fogli imperscrutabili, dove tu guardi la versione italiana, non si capisce niente, e l'unica che sembra scritta un essere umano è quella in inglese, se tu non sai padroneggiare queste cose, monti una roba, pensavi di fare una libreria, e ti trovi di fronte a una macchina del tempo, un portale verso un altro mondo, chi lo sa, assemblando le cose in quel modo lì. Ecco, allo stesso modo quindi, acquisendo gli strumenti di scrittura, non ti troverai a dire che appena esci fuori dal fare esattamente le cose così, no? Perché il personaggio deve, per forza, no? Deve, per forza, ovviamente, no? Rifiutare la chiamata all'azione. Ma che cazzo l'ha detto? Trovi manuali che te lo dico, nel fantasy si rifiuta la chiamata all'azione. Ma sei stupido? Ecco, manuali sicuramente ne trovi, perché mi ricordo un inglese che diceva così, letto tipo nel 2009. Cosa è terrificante, signori. Voi dovete acquisire gli strumenti, non avete bisogno di regolette, eh, guarda, segui 15 passi, 15 passi, fai il romanzo fantasy. Cosa? Ok? E acquisire gli strumenti vuol dire anche non cercare le scorciatroie, non solo nelle regolette, ma non cercare le regolette, anche nel metodo, nel metodo fondamentalmente. Ora, signori, diciamolo chiaramente. Il mio doppio corso avanzato vi dà gli strumenti necessari per scrittura immersiva, quindi come veramente si fa, anche in modo molto tecnico, dialoghi, altre cose, tagliare le scene, pensare le scene, ok? Vi insegno che non c'entra niente la narrativa scritta col cinema e vi faccio vedere come, con degli esempi dedicati nel gruppo di lezione dedicata alle scene, a come si tagliano. Vi faccio fare esercitazioni, vi faccio vedere esercitazioni, vi faccio fare un sacco di robine, molto belle, tutte quante dettagliatamente spiegate, ok? Corso di sceneggiatura, tra virgolette, nel senso di progettazione delle storie. Vi insegno esattamente come si pensa una storia, ma non ve lo insegno dando scorciatroie. Cioè non vi, col personaggio deve fare questo, questo e quest'altro, deve avere questo, questo e quest'altro. No, modello quelli che storpiano male il viaggio dell'eroe e fanno delle puttanatine riassunte, no? E magari te la spacciano come il segreto magico per fare un bestseller fantasy, che cazzo ne so. Il segreto incredibile per dare la potenza del mito al thriller. Ma la potenza del mito è sto cazzo. già, capite il signore a un certo punto. Io vi insegno le cose vere e proprie, tant'è che è infarcito il mio corso di sceneggiatura di esempi tratti da Shakespeare, esempi tratti dal cinema di vario genere, i Sette Samurai e altre opere. C'è un esempio incentrato sulla figura storica e da film brutto, quello di Besson, di Giovanna d'Arco, brutto in senso storico, intendo signori, poi può piacere o non piacere. A me non era dispiaciuto, però capisco che non è un capolavoro. Ok? Ci sono tante analisi di film, di contesti storici, di tragedie, di cose. Ho fatto un esempio dedicato al West, inventato da me, con i pistoleri, i pastori, cose varie, gli indiani, eccetera, inventato da me, per farvi capire un altro tipo di storia che si poteva fare con una certa posta in gioco, una certa costruzione dell'empatia, eccetera, eccetera. Vengono spiegati proprio gli elementi costruttivi, i principi. Vengono dati gli strumenti. Vi do una valanga di lezioni sull'empatia, perché l'empatia è fondamentale, perché se non ci interessa il personaggio, facciamo entrare nella storia. È fondamentale che ci interessiamo al personaggio. Per esempio, prendiamo i rosa. Vi do uno spunto base per capire se qualcuno capisce qualcosa di rosa. Questo spunto base è, per esempio, capire che nel personaggio femminile, tipicamente, deve essere possibile interfacciarsi, entrare in quel personaggio per il pubblico tipico del rosa. Il pubblico tipico del rosa vuole la brava ragazza a quel sapone. Voi dici, ma vuole fare un troione da sbarco perché voglio criticare il fatto che le ragazze di oggi pensano soltanto all'estetica e a 14 anni si truccano in modo tale che sembra delle 28 anni. Tutto molto bello. Tipicamente c'è la migliore amica zoccola, quella che porta la protagonista in discoteca, la porta a incontrarsi tipicamente col cattivo ragazzo e poi ci sarà questa tensione amorosa col scuole del suo amico. Tutte quelle puttanate lì, signori. Ok? Ecco. Anche lì. voi potete prendere anche un rosa, potete prendere quello che volete, ma anche in un rosa si verrà la costruzione dell'empatia e la costruzione dell'empatia parte da un personaggio che noi percepiamo come moralmente giusto e se sei una ragazza a quel sapone che legge 150 romanzi rosa all'anno, tu ti senti più vicina moralmente e vedi come più moralmente giusta. La protagonista, anche lei, un po' alternativa, un po' topo da biblioteca e non invece se la protagonista è una tizia ricoperta di tatuaggi che vende le foto di nudo su OnlyFan e l'ultima volta che ha letto un libro è stato quando l'hanno obbligata in seconda media. Capite signori? È più facile che certi valori e certi personaggi si interfaccino meglio. Poi ovviamente uno può costruire l'empatia su tutto, però vedete c'è un'importanza di solito semplificata tramite certi personaggi per costruire l'empatia. Poi l'empatia si può costruire con tutto, è per questo che o do, cioè letteralmente con tutto o no, ma con un po' tutte le basi. Poi ovviamente più ti scegli la base difficile, più devi adattarti sul fatto che ti limiti le scelte possibili. Ma io ho dedicato tanto spazio nel mio corso, sia in quello base che nel corso avanzato di sceneggiatura, ai personaggi cosiddetti cattivi, malvagi e anche al fatto che questo è un errore di pensiero perché se tu pensi che lui è il cattivo tu lo stai giudicando da fuori. Quindi non sei dentro, quindi non sei lui, quindi non capisci lui, quindi non capisci che lui in realtà è buono dal suo punto di vista. Ma com'è buono? Che stava dando fuoco alla casa di un tizio e poi ha bruciato nell'acido il figlio di un suo ex compagno criminale perché quello è diventato un pentito e sta collaborando con la polizia. Sì, tutto molto bello, l'ha sciolto nell'acido, lui comunque si ritiene il buono perché sta proteggendo la sua famiglia, sta proteggendo questo e quello, perché quello lì è un traditore fetuso e quindi i suoi figli devono morire. Queste cazzate qui, nella sua testa lui è il buono perché nella sua testa sta accadendo una narrazione in cui i suoi valori sono preservati e le cose degli altri sono ridotte a puttanate, errori, gli altri hanno torto, eccetera, eccetera. Esattamente come la pensate voi, nel vostro ambito, anche voi avrete le stesse cose e voi dite ma io non sono un criminale che sciogli i bambini nell'acido. La brutta notizia è che se studi come funziona la mente umana, per esempio, ti basta anche soltanto aver letto, adesso non è che lo fa benissimo, ma più o meno lo spiegiucchia, quanto basta, ti basta aver letto la scienza dello storytelling di Will Storr e ti viene spiegato come funziona la mente umana, quanto basta, per capire che i principi con cui funziona la mente di chi si arriva a raccontarsi di essere un bravo ragazzo mentre sta sciogliendo un bambino di sei anni nell'acido è la stessa che ti porta, stesso meccanismo uguale, te a dire che sei una brava persona perché sostieni la causa di che cacchio ne so per proteggere la minoranza tal dei tali, ok? O dice eh no, ma io ho evidentemente ragione perché proteggo la minoranza, guarda, ti assicuro che anche i nazisti pensavano di avere evidentemente ragione quando stavano riducendo i diritti degli ebrei e facciano tutte le puttanate che poi hanno fatto, erano convinti e evidentemente ragione, non è che dicevano cazzo io sta cosa la sto facendo ma sono sicuro di avere torto, porca puttana, ma perché stiamo tutti sbagliando e so poi gli ufficiali cazzo stiamo veramente sbagliando, no, e poi so pagliati stiamo veramente sbagliando e c'è Goebbels che diceva cazzo ma stiamo veramente sbagliando e so pagliati cazzo stiamo veramente no, non era così pensavamo di avere ragione magari non proprio su tutto ma pensavamo di avere ragione ma neanche noi pensavamo di avere ragione su tutto, su alcune cose uno può avere dei dubbi ma fondamentalmente siamo sicuri di avere ragione, ok? Questa cosa la dovete capire e la dovete capire perché solo capendola potete capire il personaggio a questo punto non penserai come scrivo di un personaggio cattivo, di uno stronzo fine perché tutti si ritengono giusti chiaro? tutti si ritengono i buoni della situazione non importa cosa fanno ok? può essere più facile per alcune persone scrivere più facile per altre più facile entrarci è più facile come detto per entrare in personaggi che ci somigliano motivo per cui ecco qui come scorciatoia in questo caso non direi scorciatroia perché si è applicato il principio correttamente però è comunque una scorciatoia riduttiva si usano tipicamente personaggi di ragazze a quel sapone molto semplificati per i rosa per esempio che non vuol dire che sia obbligato si possono fare personaggi un pochino più frizzantini sempre con certi limiti e comunque ottenere un buon risultato ok? quindi signori il discorso è un pochino questo voi dovete cercare gli strumenti e non le scorciatroie è proprio per questo che ho dedicato così tanto spazio agli strumenti all'approccio corretto all'approccio mentale in uno dei corsi che vi do assieme ai miei corsi avanzati o perlomeno che vi do alla data attuale adesso siamo a fine giugno ok? fine giugno ancora questo corso viene dato assieme ai corsi avanzati di scrittura creativa e sceneggiatura ovvero lo scrittore ribelle il risveglio dello scrittore perché? perché un'altra scorciatroia che di solito può capitare ed è secondo me la più grave è quella del dire io voglio scrivere il gener X io voglio scrivere thriller figa quanti manuali ho trovato su come si scrivono i thriller porca puttana in inglese mi contano una valanga io voglio scrivere rosa io voglio scrivere thriller io voglio scrivere fantasy valanga di manualetti sul fantasy se ne trovano tra l'altro io ne ho uno da un anno in coda di lettura sembrava anche carino cioè in realtà mi aspettavo che fosse una minchiata sembrava anche carino poi ho guardato recentemente quante recensioni aveva per andare a vedere come ne parlavano due in croce e metà erano negative quindi vabbè prima o poi me lo guarderò per divertimento ho letto manuali ben migliori sicuramente di come quello lì si presenta comunque signori dicevo tutti a cercare sta cosa si leggono che so l'enciclopedia del fantasy che va benissimo per cultura generale ma non ti insegnerà come si scrive non ti insegnerà un manuale sul thriller come si scrive thriller chiaro? perché voi dovete imparare come si scrive scrittura immersiva come si progettano le storie drammaturgia in generale ok? e lì non studierete su thriller non studierete su rosa non studierete su sui fantasy studierete sulla drammaturgia vera e propria sulla progettazione delle storie e in mezzo ci troverete come nel mio corso Shakespeare ci troverete i sette samurai ci troverete Giovanna d'Arco di Besson e una Giovanna d'Arco inventata più attinente possibile a quella storica ci troverete dentro tante cose ci troverete dentro i romanzi di Vapore Teppacitati ci troverete La figlia del drago di Farro l'ho citata nel corso base ci troverete Arma Letale ci troverete tante cose o dice figa ma perché così tante cose perché la progettazione delle storie va al di là del genere poi ogni genere può avere magari delle cose in più da sapere ma in buona parte non le conosci queste cose in più tramite un corsetto tramite un manualetto perché lì hai il rischio dell'effetto alieno che cos'è l'effetto alieno l'effetto alieno è quando qualcuno ci spiega qualcosa di un'altra cultura e noi invece di acquisire questa cosa come nel modo reale in cui è l'acquisiamo nella versione un po' tra virgolette non prendetelo come offensivo sapete che l'uso per intendere chi usa mentalmente che non comprende perfettamente gli altri ok in modo un pochino autistico ok chiaro quindi che succede che qualcuno ti dice che ne so che in Giappone è considerato maleducazione parlare al telefono sui treni anche in Italia e tu ti immagini che nessuno lo fa e se qualcuno lo fa tipo gli viene amputata la mano un modello lascerà dei ristoranti infantozzi ok non è così ti basta guardare un po' di film un po' di cose giapponesi e troverai un sacco di volte personaggi che parlano al cellulare nel vagone e indovina un po' stanno sul cazzagliate e vengono guardati male esattamente come succede in Italia quando uno parla al cellulare e rompe i coglioni per 40 minuti al cellulare indovinato quindi non è che non lo fanno perché no perché maleducazione loro ci sono i maleducati anche in Giappone ogni cultura è diversa ma non dovete pensare che dato che c'è quella cosa allora non verrà fatta ok non dovete vedere come degli alieni ma cazzo questa è una regola rigida no non lo è come non lo è da noi pensa ad esempio se tu dovessi spiegare le nostre regole cosa è giusto e cosa è sbagliato da noi a qualcun altro e questo lo estremizzasse e tu diresti no non c'è capito un cazzo non ti ho detto questo ma lui lo estremizzerebbe perché avrebbe solo questa indicazione nuova allora in Italia si fa questo non si fa quello allora già chiaro bene l'effetto alieno l'effetto alieno può capitare quando appunto ti affronti qualcosa che non conosci tramite una serie di regole semplificate che prese così come sono sembrano molto rigide e vincolanti e questo è un grosso problema perché arrivi a non capire veramente la cosa che stai parlando come appunto tramite degli aneddoti spiegati male ti fai un'immagine di come si vive in certe nazioni totalmente diverse da quella reale perché vai a estremizzare certe indicazioni che ti danno vedendole molto più grosse di come siamo davvero ok allo stesso modo con che so un corso sul thriller un corso sul rosa un corso sul fantasy fatto male cioè in cui tu pensi che semplicemente con quel corso con quel libro tu vai a comprendere tutto ti puoi andare a fottere la comprensione reale perché la comprensione reale sarà nella passione e qui ci ricolleghiamo come diceva il risveglio dello scrittore perché nel risveglio dello scrittore ti spiego esattamente esattamente come padroneggiare qualsiasi genere e non hai scelta lo devi fare se tu vuoi scrivere thriller devi applicare quel principio che è presente nel risveglio dello scrittore dettagliatamente spiegato e ti aiuterà non solo a goderti di più la scrittura ma diventerai molto competente come scrittore te la godrai sarai anche più motivato a lavorare non avrai uno schemino rigido si fa così quindi applico così si fa cosa no saprei veramente come si fa perché tu io non sono contro i corsi cioè se qualcuno mi dicesse guarda c'è questo corso sul thriller questo corso sul fantasy questo corso di scrittura di un autore fantasy tipo Gaiman che ne so c'è quel corso ecco quello me l'ero fatto non ve lo commento ma me l'ero fatto mi ero fatto il corso sul fantasy di Sanderson quello che si trova gratuito sapete che c'è tutto un corso gratuito sul fantasy Sanderson lo ho trovato anche su youtube me l'ero fatto non mi esprimo sui contenuti mi sono già espresso in passato su alcune cose non mi esprimo non è qui il momento di fare polemiche su certe cose che dice eccetera eccetera va bene su opinioni dico non vi dico non fateli ok quello che vi dico è farli non vi toglie non vi esclude il lavoro successivo da fare e se fate quel lavoro successivo voi comunque facendo quel lavoro non avete bisogno di quel corso di quei libri tant'è che io mi stupisco che qualcuno possa volere un corso sul thriller che vuol dire un corso sul thriller io posso volere dei corsi di procedure legali di come di come si fa veramente un'indagine perché a fria di guardare i film americani questo non mi insegna niente su come avviene un'indagine come funzionano le forze di polizia la magistratura è tutto in Italia cioè un corso che mi dice dal punto di vista di un magistrato magari italiano mi dice esattamente in un sequestro in un caso di omicidio un'altra cosa cosa avverrebbe quando interviene la scientifica come la magistratura cosa deve fare come deve farlo come funzionano le forze di polizia come intervengono che cose anche soltanto cose stupide cosa è un prefetto cosa è un questore come funziona anche cose cretine in ambito paramedico come funzionano le ambulanze come si dividono le zone può essere che magari tu sei a 500 metri a un ospedale e chiami disperatamente un'ambulanza e l'ambulanza che serve quella via magari risponde a un ospedale che si trova molto più distante 20 km più in là non sto dicendo nulla di strano per chi ha lavorato un po' sulle ambulanze perlomeno ho sentito storie qui in zona Bergamo abbastanza agghiaccianti Bergamo-Milano signori voi dovete comunque fare quel lavoro lì dovete conoscere e se fate quel lavoro lì conoscere esattamente il genere di cui volete scrivere non avrete bisogno di quei corsi di quei libri ok avete bisogno di altro come detto per esempio prendiamo l'esempio del fantasy in passato mi è stato chiesto in passato intendo che mi è stato chiesto ripetutamente più o meno tutti gli anni dal 2018 fai un corso sul fantasy tutto molto bello la mia risposta è stata guarda io sul fantasy non lo farai perché non ritengo che sia utile ciò non vuol dire che non sia giusto farlo non possa essere molto carino un corso sullo stato dell'arte del fantasy dove ti spiega esattamente ciò che è già stato scritto è già avvenuto quindi però io direi io non farei una cosa così io farei un corso sul fantasy dal punto di vista del world building ma in generale world building cioè mondo di ambientazione in senso tutto quello che contiene e quindi sarebbe un corso per esempio incentrato sulla storia della magia la storia dell'alchimia sui miti su cose che fanno parte di religioni e miti in modo importante cioè capire ciò che per noi è stato il vero fantastico ricordate che nel 500 fino anche inizio del 600 è tutto l'evocazione dei demoni anche l'alchimia tante pratiche magiche erano reali erano scienza ok poi non può dire non funzionavano certo non funzionavano infatti è per questo che poi sono morte a favore di altre scienze che invece portavano risultati concreti irreplicabili ma erano viste come scienze noi siamo vissuti in un mondo fantasy in cui la gente era convinta di cose ok che se noi a noi a dirle oggi sarebbero apertamente fantastiche apertamente fantasy ok poi già poi uno può dire non funzionavano sì ma ci credevano ok nel tuo mondo magari quelle cose funzionano invece ok ma devi saperle quelle cose e io dico sempre questa regola questa l'ho spiegata anche in tante live di esercizi di approfondimenti eccetera per i miei corsisti avanzati la regola del per rinnovare qualcosa spesso il trucco è semplicemente per essere originali per rinnovare per fare quel di più semplicemente il realismo dimostrazione semplice qual è una delle cose che veniva citata regolarmente come un elemento molto figo molto interessante di berserk il manga di Kentaro Miura il realismo delle arme e delle armature sì non intendo la parla per la pizza di gazzo intendo vari stocchi spade da lato varie armature soprattutto varie armi soprattutto varie armature non tutte ce ne sono alcune che sono abominevoli ma in generale rispetto a un manga medio le armature si vedeva che la persona aveva fatto una ricerca iconografica una ricerca di foto una ricerca di disegni una ricerca importante sulle vere armature europee tu vedevi quella roba e dicevi perfetto adesso non sarà tutto fantastico non sarà tutto perfetto diverse armature non tornano il fatto che questi qua rendono le armature inutili perché misteriosamente si colpiscono tutti nella fessura del collo non si sa come nella fessura degli occhi magicamente in quel mondo evidentemente non si verrà mai inventare i moschetti perché si colpiscono le fessure a colpo sicuro e però detto questo rimane che perlomeno le armature non sono un abominio se ti piace un medioevo un po' realistico vedere delle cose che dici figa devono avere un senso minimo è un piacere per gli occhi rispetto alla massa di manga e fumetti esistenti ok? chiaro? bene ecco io vi posso anche dire che un corso ecco un corso sul fantasy può anche essere ti fai il corso di Sanderson ok? ti fai il corso sul fantasy di Sanderson ti fai il corso di thriller ce ne saranno c'erano manuali sul thriller te lo fai bello ottimo ripasso sicuramente utile farlo non fa male ma ciò non esclude che in realtà per fare le cose giuste devi comunque fare il lavoro dell'appassionato che vuol dire invece di cercare la scorciatroia del corso fare il vero lavoro che è conoscere di che cazzo vuoi scrivere ma se tu conosci di che cazzo vuoi scrivere non ti serve il libro e il corso chiaro? cioè le persone vi faccio un esempio semplice guardate io ho mandato nel tempo varie persone a guardare il corso in inglese di Sanderson alcune che padroneggio l'inglese quanto basta o hanno abbastanza pazienza per seguire stando molto attenti e capire mi hanno detto l'ho visto che è cagata pazzesca oppure se avevano un po' di esperienza perché hanno appassionati conoscevano gli avevo già fatto un po' di lavaggio del cervello su come si ragiona veramente una storia a livello drammaturgico a livello di realismo e fantastico eccetera eccetera altri che invece hanno totalmente 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 digiuni ma proprio che loro pensavano di essere grandi lettori di fantasy perché hanno letto appunto i libri di Sanderson la roba di Terry Brooks quando erano più giovani si sono letti un po' di Tolkien si sono letti un po' di robe varie così R.A. Salvatore che tipo legge 50 dei suoi libri e ne sa esattamente come il punto zero di fantasy chiaro e quindi non c'era varietà c'era grande quantità di robe tutte uguali ma mancava quella varietà tant'è che per dire si è sempre insegnato che per scrivere grandi fantasy devi partire dalla fantascienza perché nella fantascienza la grande varietà di idee poi tu le applicherai al paradigma fantastico quindi al paradigma impossibile del fantasy ma partendo con la mentalità flessibile e innovativa della vecchia fantascienza ma qui c'è un altro discorso quelli che non ne sapevano niente entusiasti poi io gli prendevo le cose per cose dalla cosa della magia hard soft barzotta eccetera eccetera gli spiegavo come non funzionava all'atto pratico cioè spiegando i veri paradigmi della magia come non potevano ricadere nelle spiegazioni di Sanderson quindi come quello di Sanderson fosse un sistema perfetto in quanto falso chiaro? ne abbiamo parlato anche un anno fa ogni tanto mi tiate fuori nuovo questa questione ed è sempre divertente parlarvene ecco però comunque il corso di Sanderson se lo fa se lo guarda è anche piacevole io me lo sono fatto allenandomi mi ricordo un due annetti fa facevo pesi e lo ascoltavo qualche volta magari interrompevo e riascoltavo perché nei rumori delle mie cose da piegare per i pettorali o di altre cose magari non ero su cui una certa cosa che aveva detto tornavo indietro e riascoltavo me l'ero fatto abbastanza piacevole voglio dire non è un inglese difficile ok? non troppo quindi signori voi fate questa roba ma comunque poi dovete aver studiato comunque il vostro ambito e uno dice che poi non è un dovere uno dice ma perché cazzo vuoi la scorciatroia cioè tu vuoi scrivere un thriller con i serial killer ok? figa ne avrei letti tanti sarai ossessionato dei serial killer conoscerai come funziona cioè non ti serve un corsettino un libro che ti spiega cosa quello che sai già perché ne sei appassionato e sono anni che ti rompi il culo e stai studiando questa cosa lo conosci veramente perché è una vera passione e se non è una vera passione cosa te ne fai del corsettino del manuale tanto non ci capisci una sega cioè se ti daranno una serie di istruzioni che tu applicherai come un alieno quindi sbagliando ok? facendo errori grossolani pur convinto di essere nel giusto perché hai interpretato male hai capito estremizzando eccetera eccetera e ti trovi che fai l'ennesimo prodotto che ecco citando Francoforte che si occupa dei gialli e tutto quanto mondadori bla 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 con la ledicola lui qualche mese fa si era lamentato fortemente dicendo che è pieno di gente che manda romanzi gialli schifosi perché sono convinti che i gialli vendono e siano da pubblicare che gli editori ne vogliono tanti e allora loro pur di pubblicare scrivono gialli ma è evidente che non ne sono appassionati non ci capiscono niente e mandano delle schifezze era super incazzato e ha ragione se tu non capisci e tu non sei un appassionato se tu non conosci non devi scrivere farai schifezze farai l'ennesimo libretto giallo che l'editore rifiuterà oppure se fai un fantasy magari troverai un picco editore che te lo prende il tuo ennesimo fantasy fatto con lo stampino capendo male quello che dice Sanderson o quello che dice un qualche altro manuale eccetera eccetera perché tu non sei appassionato e non ti sei fatto il culo studiando e leggendo fantasy e fantascienza per anni o comunque per un buon periodo non ti sei fatto il culo andando sulle fonti paradigmi della magia war building war building vuol dire anche per esempio studiare certi meccanismi storici ok tanto lavoro di war building sul realismo socio-economico lo si fa sullo studio della storia tipicamente storiografia marxista pensate a Wallenstein eccetera eccetera braudel tu non hai fatto il lavoro che serviva davvero appassionato e non dici ah cazzo sgobbare così tanto che fatica soltanto per un romanzo no figa al contrario tu sgobbi tra virgolette così tanto perché tu ami farlo perché sei appassionato di quella cosa dalla passione per quella cosa nasce il desiderio di scrivere un romanzo voi invece quando entrate nell'ottica della scorcia troia del come faccio un thriller come faccio un rosa come faccio un fantasy come faccio un romanzo storico come faccio che altro rimane delle puttanate che vendono di più come faccio fantascienza no questo vende un cazzo come faccio un qualcosa voi siete lì a cercare la scorcia troia voi volete scrivere per aver già scritto voi volete non volete scrivere non volete essere scrittori volete che qualcuno abbia scritto un libro col vostro nome sopra che venda cioè voi stareste disposti letteralmente a prendere un team di 4-5 persone e a dargli due spiccioli o promesse di fame e gloria farvi scrivere il romanzo a loro e poi invece di segnare che avete avuto i ghostwriter che ne so non li citate i dati 200 ore a testa e ci mettete il vostro nome al mio romanzo è il tuo romanzo l'ha scritto altre 4 persone altre 5 persone sono ghostwriter poi siamo d'accordo che nel mondo degli autori ci sono i ghostwriter che tante volte non sappiamo chi ha scritto che cosa perché sono autori famosi che gli usano eccetera eccetera ciò non toglie che però dal tuo punto di vista tu non hai avuto il piacere della scrittura tu non hai scritto perché amavi scrivere ti fa schifo ti fa schifo al punto che tu prefisci pagare qualcun altro che scriva per te perché a te non piace ma che cazzo di roba è signori non è la scrittura che nasce come sono così appassionato e si torna a scrittore il rebello e il risveglio dello scrittore così appassionato di qualcosa che voglio che non solo voglio conoscere al meglio ma voglio conoscerlo davvero di prima mano non tramite riassunti a regolette non tramite scorciatroia voglio conoscerlo davvero perché lo amo e a questo punto a un certo punto io dico cazzo io voglio contribuire a questa cosa perché ho preso 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 ovviamente pagando i libri e tutto quanto ho preso adesso voglio dare voglio contribuire perché sento che posso dire qualcosa che ancora non è stato detto in questo modo e da questo principio vedete che non esce il ah hanno fatto un romanzo così che ha venduto faccio la fotocopia con i nomi cambiati come tanti romanzi a tavoino che vengono dalle scorciatroie su come si fanno certi romanzi è pieno di rosa così è pieno di thriller così è pieno di fantasy così signori palesemente gente senza idea che diciamo ma ecco il tizio l'ha fatto e sta guadagnando e ne parlano sulle riviste ne parlano sui blog fantasy importanti ne parlo le bookstagram allora lo faccio anch'io ne lo faccio anch'io figa porta le tue idee originali non stare a fotocopiare le idee degli altri per attribuirtele così ah quello ha avuto successo anche io ho diritto di una fetta di successo sembrano quelli che scopiazzano i video corsi e poi ti trovi la gente che parla di scrittura creativa 99% formati da me che parla di scrittura creativa scrittura immersiva con questo approccio male perché ovviamente non lo possono aver capito nel modo in cui l'ho capito io per semplice il fatto che gli mancano il lavoro con decine di autori anni di esperienza quindi vi danno in forma ridigerita le competenze anacquate che hanno acquisito e non va a dire ma figa ma perché lo fai così e poi ci sono anche quelli bravi ecco vi cito per esempio a me piacciono i video di Durigon perché lui come con la sua ottica da professore ok da professore di scuola superiore lui dà una chiave diversa per insegnare quelle cose spiegare quelle cose bravo chiave personale un attore potrebbe dare una chiave interamente dal punto di vista interiore recitativa e comprensivo del personaggio bla 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 degli stessi insegnamenti bravissimo ecco ma una cosa è dare la tua chiave personale originale che è come dire fare un fantasy non con le solite cose ridigerite ma originale e un'altra è scopiazzare si può scopiazzare un corso di scrittura insegnamenti di scrittura ne vedete a valanga di scopiazza tipicamente si riconoscono anche perché se gli fate delle domande non sono in grado di rispondere in modo corretto perché non padroneggiano abbastanza da poter intuitivamente sul momento creare risposte complesse ok infatti quelli che scopiazzano tipicamente gli consiglio non fatele live perché se vi fanno delle domande e non sono proprio degli idioti quello che vi fanno vi sgamano che non siete bravi perché si vede che non sapete rispondere in modo congruente rapido a domande complesse e poi ci sono quelli che hanno la chiave originale ecco rapidissima chiave originale per esempio come insegno scrittura io con questo approccio è un approccio che ho deciso di insegnare perché non c'era non perché c'era già ci fosse stato già non l'avrei insegnato ricordate che io venivo dall'idea di fare io lo scrittore l'avrei applicato e basta mi sono trovato a dover dire figa non c'è niente fatto in questo modo devo crearlo io e a questo punto nel tempo a furia di lavorare con la gente a voler studiare queste cose mi è passata la voglia di scrivere è rimasto ok mi specializzo sull'insegnare e fare in modo che altre persone scrivano meglio più facilmente eccetera eccetera è chiaro signori come vedete non c'è una scorciatroia non c'è abbiamo scopiazzato eccetera c'è un fare qualcosa originale perché conosci veramente le cose e le conosci talmente tanto bene che nella tua mente clac 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 scatta quel meccanismo quelle connessioni che ti dicono cazzo guarda questa cosa che nessun altro ha fatto non stiamo semplicemente proponendo A B C D E F abbiamo improvvisamente concepito Y e tu mamma mia e tu devi condividerla questa cosa è la tua storia ok signori bene lo scrittore ribelle vi insegna esattamente come padroneggiare le passioni ovvero come sapere se avete una passione se la trovate se non l'avete come capire se non potete trovare una indagando cosa vi piace magari non avete mai capito cos'è la vostra passione siete lì che non sapete navigate a vista oh mio dio a me non dispiacerebbe ma siete eternamente bloccati anche perché non sapete cosa vi appassiona non solo a livello di thriller fantasy rosa fantascienza eccetera romanzi d'azione di guerra ma anche proprio semplicemente a livello di cosa voglio dire veramente cosa voglio comunicare veramente con questa storia cosa veramente rappresentare la vostra impronta stilistica ok bene il risveglio dello scrittore è incluso con i miei corsi avanzati perlomeno ancora in questa offerta lì dentro trovate tutto quello che vi serve per padroneggiare qualunque genere perché vi darà gli strumenti per capire come si coltiva una passione vuoi diventare un grande autore di thriller investigativi irrealistici fatti con persone comuni che indagano su cose usando gli strumenti delle persone comuni modello avete presente quel documentario su netflix sul killer dei gattini ecco quel tipo di roba lì oppure il libro come uccidono le brave ragazze quella roba dove ti specialisi sul mostrare le persone come anche loro potrebbero indagare se gli capitasse un caso ok sotto il naso senza essere poliziotti eccetera eccetera bene per specializzarti in quello devi avere la passione per coltivare quelle conoscenze nel mio corso nel risveglio dello scrittore ti insegno come si coltiva una passione come arriverai a avere gli strumenti le cose eccetera eccetera per specializzarti in quell'ambito non c'è un corsetto che ti dice come fare c'è una coltivare c'è un coltivare un capire un divenire veramente fottutamente esperti per smettere di riproporre in modo acritico e scopiazzato cose già viste ma cominciare a causa della massa critica di cose imparate a creare contenuti contenuti completa 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 originali bravo originali perché soltanto la massa di conoscenze permette al cervello tramite l'interconnessione massiccia di concetti di produrre l'originalità e questa originalità quindi non può nascere dal conoscere soltanto l'essenziale soltanto il ah cazzo questo è lo stato dell'arte del thriller questo è lo stato dell'arte del rosa questo è lo stato dell'arte del fantasy se fai solo questo potrai solo fare i prodotti fotocopia che nel caso del rosa posso anche capire che possa andare bene perché se guardate i rosa i maggiori successo sono tendenzialmente molto fotocopizzati e se ti allontani da certi canoni abbastanza rigidi insomma corri dei pericoli però negli altri generi tipicamente questo problema è molto più ridotto ok e comunque vi direi che conviene avere una conoscenza completa e drammaturgica qualunque cosa tu voglia scrivere poi per esclusione vai a toccare nel tuo ambito cosa va bene cosa non va bene ok quindi signori voi dovete capire che dovete conoscere profondamente dovete acquisire gli strumenti e anche avere una passione e acquisire strumenti strumenti per scrivere strumenti per progettare le storie strumenti per coltivare un sistema di passione e conoscenze e anche strumenti per navigare in editoria perché allo stesso modo in cui cercate le scorciatroie per non dover leggere decine di fantasy o decine di rosa o decine di thriller o decine di romanzi di fantascienza sperando che qualcuno si sveli la chiave segreta no la chiave segreta di romanzi di fantascienza ma che cazzo stai a dire ok signori voi volete queste scorciatroie allo stesso modo in editoria perché un sacco di voi come detto c'è questo pericolo del non volete scrivere perché volete contribuire con passione con amore a un genere ma a voi addirittura sul culo scrivere e volentieri ad avere i soldi commissionereste il romanzo a qualcuno e poi pubblicarli col vostro nome dirà che bello un romanzo col mio nome sì ma non l'hai scritto tu che cazzo ti vanti hai dato 5.000 a un tizio o 1.000 a un tizio un povero sfigato cosa ti vanti sei stupido ok signori bene e nel risveglio dello scrittore tratto anche questo tratto l'aspetto dell'editoria io vi dico subito signori l'editoria funziona così e cosà ci sono certi problemi ci sono cose a cui stare attenti ci sono falsi miti che talvolta vengono usati per manipolarvi e convincervi di certe cose io ve li insegno vi insegno che non ci sono non ci sono problemi come gli editori che pubblicano tutti le stesse cose signori fate un giro nelle fiere è uno dei falsi miti non c'è come pensate voi il problema dell'esterofilia falso mito lato editore totale falso mito lato autori lato scrittori totale falso mito vi insegno invece il principio psicologico che voi scambiate per esterofilia perché visto che non padroneggiate veramente certi basilari concetti psicologici siete un po' stupidi allora voi credete come stupidini che certe cose che sono semplicemente riprova sociale siano invece esterofilia perché? perché essendo stupidini voi volete vedere l'esterofilia perché sono 40 anni che vi ripeto questa puttanata e così non andate a vedere tutte le prove contrarie ma signori a un certo punto metodo scientifico approccio scientifico quando ci sono le prove contrarie le prove contrarie negano la vostra teoria e quindi a un certo punto diventa che dovete riformularla e con la riprova sociale potete riformulare tutto senza bisogno dell'esterofilia e tutto torna voi dite non ho capito che cosa intendi con riprova sociale c'è la lezione falsi miti dell'esterofilia sono due lezioni vi spiegano tutto con istruzioni precise su come verificare queste cose come anche quando vi dico che gli editori non pubblicano tutto uguale ma l'originalità piace istruzioni per andare a verificare potete verificarlo c'è le istruzioni io non vi dico balle non vi dico la cosa del tipo ah è questo e poi dovete credermi io ogni volta che vi dico qualcosa soprattutto cose così controintuitive perché io capisco che l'esterofilia può sembrare una cosa una conoscenza ovvia ovviamente il 99% di tutti dicono c'è l'esterofilia io ti direi che una regola comune è che il 99% di tutti sbagliano su quello che dicono e qui quindi cominciano a ragionare quando il 99% di tutti parlano di esterofilia cioè figa 2 più 2 collega la regola ti sembra che sei nel top 1% se anche tu credi nell'esterofilia dai ragionaci a un certo punto ok io ti do proprio gli strumenti anzi te li spiego nella lezione ti dico vedi ti ho detto questa cosa non è che devi credermi per fede non sono il guru che ti impone le cose che ti dice devi credermi per fede in modo implicito ma perché si posiziona come l'esperto io ti dico figa si controlla così vai a controllare questa cosa ragiona a questa cosa pensaci con la tua testa non io che ti dico cosa pensare io che ti dico stai attento a questo riflettici tu chiaro? semplice no? ovvero strumenti e non scorciatroie perché dirti pensa questo è una scorciatroia o meglio una scorciatroia perché farei un disastro dirti certo funziona in questo ammoso ma lo puoi verificare così e verificalo e pensaci con la tua testa questo è uno strumento chiaro signori? bene mi sono dilugato anche troppo l'importante è che capiate che non ci sono scorciatoie ogni scorciatoia in editoria nella scrittura è una scorciatroia perché manda a puttane tutto quello che dovete fare vi rovina le cose e in più vuol dire che se cercate le scorciatoie che voi vivete male la scrittura perché se voi non volete scrivere non volete leggere non volete approfondire non volete una siega ma che cazzo c'entrate con la scrittura? voi siete persone che volete fare forse le veline della scrittura cioè mi hanno convinto che con un libro diventerete famosi come quelle che hanno convinto che assieme andiamo a fare le sezioni e fai la velina perché se mi prendono poi ti metti col calciatore diventi famosa perché la grande periodo delle veline a fine anni 90 inizio anni 2000 non funziona così signori fare lo scrittore non è fare la velina non è che lo scrittore è l'alternativa per chi non è ragazza o non ha 18 anni al fare la velina lo scrittore è perché tu sei appassionato di qualcosa non cerchi scorciatroie anche perché faresti merda entresti nella lista degli autori che regolarmente da me oltre 400 corsisti formati agli anni vengono derisi ma non vengono derisi per cattivere che quando tu conosci veramente le cose come si scrive come si progetta e come si fanno veramente i libri a un certo punto le cazzatine degli scopiazioni in cerca di scorciatoie perché cercano successo facile diventano così evidenti che voi diventate e non immaginate quanti sono gli autori che voi magari pensate di successo che poi dietro ci hanno gli autori veramente competenti che gli ridono alle spalle diventerete semplicemente gente di cui si ride poi nessuno verrà in fiera a comprare il vostro libro a dirvi guarda senti io in realtà dietro le tue spalle rido però sarei quello che magari ti leggono anche ma sempre con quel sorrisetto di sufficienza del dire certo 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 però lo sappiamo che tu sei la serie C della scrittura puoi anche vendere 2000 copie del tuo libro ma ce non toglie che il tuo libro non ha contribuito in alcun modo al genere e che tu sei una persona pigra che in 15 anni non si è mai veramente informata volete finire così o volete essere quelli che non solo sono considerati altamente competenti ma vendono anche bene vi potrei citare la mia vita con le blatte oltre 450 copie nel primo anno di vendite e quell'anno di vendite era il 2020 con le libri richiuse senza le fiere l'anno della pandemia dura Venezia Metal 150 copie nel primo mese soltanto su sito di Acheron e considerate che la massa di vendite i libri li fanno su Amazon e senza le librerie nel conteggio e che sta avendo negli ultimi mesi una valanga di gruppi di lettura che lo adottano bookstagrammer che ne parlano tiktok di tutto valanga mai vista prima con titoli vapore teppi indovinate un po' Venezia Metal è originale non è fotocopiato voi Venezia Metal prendendo un manoletto che vi dice così si fanno i fantasy non lo potete creare mentre invece avendo la vera passione di chi ama l'horror poi secondariamente ama il fantasy diciamo ami l'horror fantastico ok quindi principalmente l'horror secondariamente i fantasy mischiato nell'horror fantastico ami un po' la fantascienza ma soprattutto ami il metal ami la musica puoi partorire quello non c'è una lista di istruzioni in modello Ikea non c'è una scorciatroia per care Venezia Metal c'è la vera passione e lì puoi avere quel libro che magari vende tot copie quanto un altro libro fatto con le scorciatroie entrambi avrete gli autori avete le mail delle persone content avete recensioni su Amazon entusiaste il livello di entusiasmo delle recensioni per Venezia Metal è imbarazzante signore altissimo 43 recensioni o 46 non ricordo più in sei mesi ma con un livello di entusiasmo mai visto su altri romanzi che ho curato una cosa incredibile ma si vede anche la differenza e di passione di chi l'ha messo ok di chi l'ha creato e ecco voi dovete avere quella roba lì perché altrimenti sì potete anche avere voi mille copie vendute che ne so anche voi potrete avere la gente che vi manda le mail contenta però non ci sarà mai quel di più dei veri esperti quelli che veramente sono dietro sono gli addetti ai lavori quelli che veramente ne sanno e saranno sempre di più perché vi ricordo che ogni anno formo una valanga di nuovi autori nuove persone consapevoli alcune con corsi avanzati altri molti altri li formo con il corso base gratuitamente ma si forma sempre di più quindi non di meno e la situazione sarà sempre più avvantaggio di chi è originale e competente sempre più persone in grado di dire su due romanzi che comunque hanno gradito entrambi qui c'è un autore competente un grande autore qui c'è l'ennesima signorina fotocopia ok avranno letto entrambi avranno comprato entrambi avranno magari messo 5 stelle entrambi su amazon perché signorina fotocopia ha fatto il compitino bene ma nell'altro c'è la vera passione ma quello che stimeranno davvero sarà l'altro ok e voi volete essere semplicemente quelli che mentre vi fanno mentre fate al banco vendita libero in fiera fate la firma sul romanzo vedete dietro il sorriso di una persona che poi mette un sorrisetto di sufficienza del tipo ah sì sì carini i suoi romanzi ma sappiamo che è miss fotocopia mentre invece tu dall'altra parte è l'autrice rispettata che fa cose serie in modo originale competente che tu vedi l'autorevolezza di una che sa che cazzo dice e tu lì hai un altro impatto e questa persona se tu lo sei lo sai di esserlo chiaro signori la differenza tra fare un fantasy storico con poi la gente che ti ride un po' alle spalle dicendo eh non sembra ambientato a Roma poteva essere ambientato in qualunque altra città l'hai fatto di merda e poi magari sì però gli piace ti mettono 5 stelle o essere Lorenzo Manara che già ha ancora romanzo non è uscito già valanghe di persone che lo aspettano perché lo reputo un'autorità nel campo del fantastico storico del medioevo chiaro signori sono scelte sono scelte che potete fare io giustamente vi dico che una scelta vi porta a certe cose tipicamente essere sbeffeggiati di spalle sbeffeggiati nascostamente nascostamente mica tanto perché poi basta essere un po' nel settore sapete che viene sbeffeggiato come quando eccetera o essere quelli dove anche quelli acquistati sul cazzo io lo so bene perché so sul cazzo un sacco di persone non possono fare a meno di dire sì quel tizio mi sta sui coglioni perché è presuntuoso supponente più siete competenti più c'è questo pericolo però cazzo ne sa oppure mi sta sui coglioni ma studio da lui quante persone ho che dicono gli sto sui coglioni ma studiano da me è normale quindi signori non c'è altra scelta dovete coltivare passioni dovete comprendere e approfondire e saper utilizzare davvero gli strumenti non cercare le scorciatroie altrimenti avete una carriera che sarà sempre se l'avrete perché è facile che in realtà fallirete come scrittori ma se anche ce la farete sarà la carriera sempre vista con sufficienza sempre adatta per le masse non istruite ma appena appena il vostro pubblico approfondirà e conoscerà di più il genere in cui scrivete passerà dal dire ah sì adoravo autore x quando leggevo meno quando ero all'inizio adesso a ripensare i suoi romantici ripenso con un sorriso di quanto ero ingenuo volete essere così spero proprio di no spero che invece vogliate non solo il pubblico di chi comincia che vi può apprezzare ma anche il pubblico degli esperti si possono avere entrambi non sono escludenti ma per avere entrambi dovete sapere veramente cosa state facendo bene signori spero che la cosa sia chiara vi ricordo che è disponibile fino al 5 luglio alle 23.59 quindi martedì prossimo è disponibile tutta la mia accademia educale cioè tutti i miei corsi mai prodotti quelli che hanno permesso ai miei autori di essere autori che stanno avendo un discreto successo signori c'è poco da dire in Akron Books o che stanno avendo contratti con altre case che sono state pubblicate in Delos o Mosca Bianca o altri posti tutto quello che loro conoscono su come posizionarsi e come fare marketing e sviluppare la correttamente data di autori come coltivare le passioni come non cedere come non fallire per mancanza di resilienza come progettare una storia come scrivere come tutte queste balle qui e una valanga di esercitazioni tutto disponibile con l'accademia educale a un prezzo francamente ridicolo tutto questo sparirà il 5 luglio e dopo questo dopo il 5 luglio alcuni dei corsi che trovate in accademia educale svaniranno dal commercio chi li ha comprati ce li avrà e ce li avrà per sempre chi non li ha comprati li ha persi per sempre chiaro e i corsi avanzati svaniranno anche loro per alcuni mesi direi fino a ottobre ma per il corso in sceneggiatura mi sento già di dirvi che io non la vedo bene fino a novembre chiaro? e voi direte ma come se non compa adesso vuol dire che per 4-5 mesi sì ti troverai senza quei corsi quindi compra adesso e li avrai per tutti questi mesi e quando usciranno aggiornate avrai l'aggiornamento gratis 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 ripeto non compagni adesso e vuol dire che quando magari ad agosto dirai cazzo che errore devo assolutamente avere il corso avanzato in sceneggiatura non capirò mai come risolvere e padroneggiare veramente il concetto difficilissimo di posta in gioco o di empatia tu sarai lì e che scriverai al mio ufficio il mio ufficio risponderà ragazzo il corso non è in vendita devi aspettare e tu sei lì che perderai mesi della tua vita senza poter scrivere il tuo romanzo e se lo scriverai lo scriverai sbagliato chiaro? bene signori andate al link sotto il video procuratevi tutto il necessario comprate i corsi che vi servono prendete l'accademia locale non prendete la cazzo i vostri è un vostro problema e quindi signori alla prossima